Buongiorno a tutti carissimi amici e ben trovati con la rassegna stampa di Radio Piave in blu. Oggi in studio a Belluno ci sono io Martina Reolone e vi farò compagnia con la lettura delle principali notizie pubblicate sui quotidiani locali di oggi, venerdì 12 marzo. Partiamo con il Corriere delle Alpi che dedica il titolo di apertura alla tematica coronavirus e in particolare all'otto di vaccini AstraZeneca che è stato bloccato in tutta Italia, quindi anche in Veneto, a scopo precauzionale come si legge nel titolone del Corriere delle Alpi. L'iniziativa dell'AIFA dopo tre decessi in Sicilia e in Veneto somministrate 17 mila dosi anche nel bellunese non sono state riscontrate reazioni anomale messe in guardia alla rete dei medici di base. Ricordiamo che si tratta di un solo lotto delle forniture del vaccino AstraZeneca. Era stato bloccato nei giorni scorsi anche in altri paesi europei. E' ieri la decisione dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, di bloccarlo anche in Italia e così c'è stato il blocco anche in Veneto. Andremo poi a leggere nel dettaglio, si tratta come si legge nel titolo, di un blocco a scopo precauzionale. Finora in Veneto non sono state riscontrate reazioni anomale. E per quanto riguarda il piano vaccinale, Belluno accelera sulla campagna. Nel weekend le classi del 38, 39 e 40, tutti i tamponi positivi mandati a sequenziare presentano la variante inglese. L'articolo di Paola D'Alanese a pagina 8, poi andremo a approfondire. Oggi ci sarà la nuova riclassificazione delle zone a rischio. Il Veneto è in bilico fra rosso e arancione. Zaia, anche noi siamo a rischio a zona rossa, l'ha detto ieri durante la conferenza stampa a Marghera. E si attende anche poi quello che sarà il nuovo DPCM, un nuovo decreto che stabilirà cosa accadrà in Italia. Nelle prossime settimane andrà a sostituire quello dell'ultimo decreto, quello del 6 marzo. A Belluno il virus rapisce Don Hutenberger, penitenziere del Duomo. L'annuncio della diocesi fatale, gli esiti del Covid-19 fu una colonna portante del seminario. Quindi lutto nella diocesi di Belluno-Feltre e nella comunità bellunese, nella chiesa bellunese. Poi andremo a leggere a pagina 11 l'articolo, l'approfondimento. E ancora, sempre dalla prima, del Corriere delle Alpi. Parliamo delle conseguenze sull'economia. La pandemia pesa su Safilo. A Ormoz chiuderemo, si legge nel lancio, in prima. Il 2020 si è concluso con il fatturato in calo, il mercato europeo in sofferenza, ma crescono le vendite sul canale online. Andremo poi a leggere anche qualcosa di questo articolo. Belluno, gara sui rifiuti, gas e trasporti, tempi stretti e incognite. Ricordiamo che il 2021 è l'anno delle gare pubbliche per i servizi, ma gli affidamenti sono ancora in alto mare. C'è un articolo di Rene Aliprandi. La foto di copertina è dedicata sempre alle tematiche economiche. In questo caso si tiene raccolta firme, Ideal si appella al governo. Stiamo parlando dell'azienda di Tricchiana. La pazienza dei lavoratori è finita, si legge. Ieri c'è stato un sit-in nel piazzale esterno della fabbrica ed è partita una raccolta firme. C'è l'articolo di Paolo Dallanese. A pagina 30. A Digne, a Longarone, fumo e fiamme nella parazzina, notte fuori per le famiglie. A lavoro una quindicina di vigili del fuoco, danni molto ingenti. C'è l'articolo di Gigi Sosso. Ci fermiamo subito nelle pagine nazionali. È record di contagi, due italiani su tre verso il rosso. Da lunedì 12 regioni su 20 avranno regole più dure. Oggi il vertice tra governo e denti locali. Poi parlerà Draghi. La situazione quindi è in peggioramento. Da lunedì due italiani su tre rischiano di andare in lockdown per effetto di una curva epidemica che continua a puntare verso l'alto, toccando ieri 25.673 contagi in 24 ore. Il dato peggiore è dal 28 novembre, quando eravamo nel picco della seconda ondata. Come dicevamo, anche il Veneto è a rischio passaggio in arancione. Leggiamo appunto la notizia. In questo caso siamo a pagina 6. Protocollo per le vaccinazioni in azienda. Intanto ne ha parlato ieri Zaia dal punto stampa. Veneto in bilico tra arancione e rosso. Si legge nel titolo. Industria, commercio, turismo e agricoltura saranno le associazioni di impresa a raccogliere le adesioni sui luoghi di lavoro, in questo caso per i vaccini. L'articolo è di Filippo Tosatto. Vaccinazione all'orizzonte nelle aziende. Accogliendo la richiesta delle associazioni di categoria, il Veneto destinerà uno stock di dosi alle imprese che provvederanno a somministrarle al personale attraverso medici di fiducia. Il protocollo, fa sapere Luca Zaia, sarà approvato martedì dalla giunta regionale. Destineremo le categorie produttive e le quantità. Purtroppo modeste e disponibili in questa situazione di ristrettezza. Anche i sindacati mi hanno espresso la volontà di collaborare alla campagna. È un messaggio di ripartenza. Si legge ancora nell'articolo. Immancabile sui social la frecciata Novax che rinfaccia al governatore e a Manuela Lanzarin, la mancata vaccinazione a riprova di un'immaginaria minaccia in agguato. C'è gente che vive di complotti, dice, ha detto Zaia, io all'interaggiunta pensiamo esteticamente corretto privilegiare le persone anziane e a rischio. E per quanto riguarda la riclassificazione attesa per oggi, oggi incombe appunto la riclassificazione in fascia di rischio e la crescita di contagi e ricoveri spinge pericolosamente il Veneto verso la zona rossa. Il passaggio è segnato da un RT, indice di contagio pari o superiore a 1,25, siamo sul filo del rasoio, dice appunto Zaia, ha detto ieri durante la conferenza stampa. È una conferenza in cui ha manifestato anche la preoccupazione per le varianti che sono sempre più diffuse. Dopo infatti leggeremo quello che sta accadendo in provincia di Belluno. E per quanto riguarda le misure in vigore fino al prossimo 6 aprile, regole più rigide per le fasce arancioni, evitare i contatti in attesa di quello che sarà il nuovo decreto governativo. Per quanto riguarda la scuola, istituti chiusi nelle zone a rischio, regioni gialle superiori in didattica a distanza. Tra zone rosse e arancio scuro proclamate dai governatori già questa settimana, quasi 6 milioni di studenti le elezioni le hanno fatte a distanza e molti di più rimarranno a casa da lunedì fino a Pasco per effetto di lockdown che scatteranno nella maggior parte delle regioni. Le disposizioni in vigore che verranno reiterate dal decreto Pasqua prevedono infatti la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in tutte le regioni rosse. Lo stesso accade anche a livello provinciale o comunale dove si supera la soglia dei 250 cotaggi settimanali ogni 100.000 abitanti. Ricordiamo che nel distretto di Belluno delusono Dolomiti, quello che comprende la Valbelluna da Limana andando su fino al Cadore Alcomelico, da sabato per la seconda media in su prevede l'istituzione della didattica a distanza al 100%. Infatti la soglia dei 250 contagio ogni 100.000 abitanti è già stata superata nel distretto di Belluno. Weekend. In arancione si sta nel comune, seconde case, stop fuori regione. A parte quello di Pasqua, negli altri weekend il lockdown scatta solo nelle regioni e nelle zone dichiarate rosse da sindaci e governatori che diventeranno poi la maggioranza, visto che il monitoraggio di oggi con le nuove regole dovrebbe mandare già da lunedì ben 12 regioni nella fascia, dove per tutti i giorni della settimana non si può uscire di casa se non per motivi di necessità e i negozi, salvo quelli essenziali, restano chiusi tutto il giorno. Per quanto riguarda le festività pasquali, a tavola solo i congiunti si torna al lockdown duro. Il ponte di Pasqua sarà triste e solitario come quello dello scorso anno quando l'Italia era in piena prima ondata e in lockdown. Tra i ministri la discussione in queste ore è ancora accesa ma su weekend pasquale sembra prevalere la linea rigorista. Attenderemo poi le prossime ore per avere certezze in più. Per gli spostamenti c'è l'ipotesi di un'ultima stretta. Vietate le visite ad amici e parenti, muoversi da qui a Pasqua sarà un problema se la misura ancora oggetto del contendere sarà confermata domani dal decreto nella versione finale anche a chi vive in quelle poche regioni gialle e in quelle arancioni non sarà più permesso andare a far visita a parenti e amici anche se nel limite di due persone una sola volta al giorno. Per quanto riguarda bar, ristoranti e negozi garantite le attività essenziali, ristorazione costretta al delivery, se le previsioni della vigilia saranno confermate oggi dal monitoraggio settimanale al bar e al ristorante e la mattina si potrà continuare ad andare solo nelle regioni gialle ossia Calabria e Sicilia oltre che nella bianca Sardegna. Anche in fascia gialla tuttavia alle ore 18 si chiude e resta solo la possibilità di asporto fino alle ore 22. Le consegne a domicilio sono sempre consentite, in fascia arancione e rossa invece a bar e ristoranti resteranno chiusi ma sono possibili asporto e delivery. E per quanto riguarda cultura e svago per cinema e teatri l'incertezza 6 di aprile si deciderà il 20 marzo, quindi ancora circa 10 giorni di attesa per sapere quello che sarà il verdetto. Torniamo alla tematica con cui apre oggi il Corriere delle Alpi, ossia AstraZeneca, l'AIFA ritira un lotto, Draghi evitare panico sui vaccini. Draghi, il presidente del Consiglio dei Ministri italiano, ha telefonato alla Von der Leyen, nessun nesso con le trombosi, in Danimarca e Islanda scatta lo stop. Parliamo appunto del lotto che è stato bloccato. AstraZeneca è nella bufera, si legge all'inizio dell'articolo, la somministrazione del vaccino dell'azienda anglo-svedese in un solo giorno viene sospeso in 8 paesi europei dopo che si è verificata una morte sospetta in Danimarca e un'altra in Austria. Così Austria, Estonia, Lituania, Lussemburgo e Lettonia sospendono le inoculazioni del lotto ABV 5300. Danimarca, Norvegia e Islanda vanno oltre e sospendono tutto, non così accade in Francia, Germania o Spagna che non vedono motivo di interrompere la somministrazione o in Gran Bretagna dove si roviene prodotto che ritiene di andare avanti come al solito. E anche Mario Draghi è su questa linea, la preoccupazione del Premier è infatti evitare prima di tutto di diffondere il panico perché l'effetto sulla campagna di vaccinazione potrebbe essere disastroso. Sarà il sottotesto del suo discorso durante la visita che farà al centro vaccinale di Fiumicino previsto per oggi alle 15. La notizia di AstraZeneca sta scumbusolando insomma i delicati equilibri sui quali si regge la spinta alle somministrazioni in Italia e arriva appena 48 ore dopo l'annuncio che Johnson & Johnson ritarderà i consegni dei suoi seri monodose. La situazione non è precaria, con l'Italia che ritorna a colorarsi quasi tutta di rosso, i vaccini sono l'unica speranza a cui aggrapparsi. Andiamo appunto per vedere quella che è anche la situazione in Veneto. Siamo a pagina 5. La regione ha bloccato appunto la distribuzione dell'otto di AstraZeneca. Iniettate nel Veneto 17.000 dosi provenienti dall'otto Astra sospetto. La direttrice della prevenzione russo fino alla monitoraggio esclude reazioni avverse di rilievo e c'è l'articolo di Filippo Tosatto. Si tratta appunto dell'Agenzia Italiana del Farmaco che ha avvitato l'impiego dell'otto ABV 2856 del vaccino alla luce di alcuni eventi avversi gravi successivi alle inoculazioni. Anche il Veneto figura tra le regioni destinatari dell'otto sospetto e una parte dei flaconi è già stata utilizzata nell'ambito delle vaccinazioni Nusdoromiti, Marca Trevigiana, Polesana, Euganea, Pedemontana e Berica. Ad oggi sono state somministrate 17.043 dosi e non sono state segnalate reazioni avverse di rilievo. È stato sottolineato ieri. I flaconi nel mirino di Aifa sono stati utilizzati anche nel bellunese. Si legge in questo articolo le dosi destinate alle fasce più giovani come il mondo della scuola medici di base sollecitati a segnalare casi sospetti di reazione avversa. Si legge appunto nel titolo. Anche nell'Udoromiti sono state somministrate dosi di vaccino appartenenti all'otto di AstraZeneca che ha dato origine a reazioni avverse. L'otto di Quieri, la Regione Veneto, ha deciso di bloccare l'utilizzo appunto come si legge. Aifa ha precisato che non è stato stabilito alcun nesso di casualità tra la somministrazione del vaccino e gli effetti indesiderati. La sorveglianza e il ritiro precauzionale sono da interpretare quindi come una procedura garanzia della sorveglianza e della sicurezza per le persone a cui il vaccino viene proposto. Questo quanto si legge nell'articolo. Andiamo avanti. Mi interessava leggervi la notizia che riguarda i tamponi che sono stati sequenziati e che mostrano la presenza della variante inglese. L'articolo in questo caso è a pagina 8 e ci andiamo subito. Nei fine settimana si parla sempre di campagna vaccinale, dosi ai nati dal 37 al 40, l'impegno sui centenari entro il 22 marzo e si legge nel sommario che tutti i tamponi positivi mandati a sequenziare presentano la variante inglese. Gli infetti in provincia sono ormai 1024. In questo articolo di Paolo Dallanese andiamo a leggere questa parte che riguarda le varianti. Continua il sequenziamento dei tamponi molecolari da parte dell'Istituto Zooprofilatico delle Tre Venezie. I campioni esaminati nelle ultime settimane confermano che sono tutti casi di variante inglese. Quindi viene confermato che la variante inglese è ampiamente presente nel territorio provinciale. Si diceva già circa una settimana e mezzo fa che rappresentava il 50% dei casi. In questo caso tutti i campioni mandati nelle ultime settimane sono di varianti inglese. I letti sono in saturazione, in ospedali i reparti Covid si stanno saturando e così i posti letto, anche se per ora non si è reso necessario aprire nuovi posti e far convogliare personale di altre unità operative in quelle dedicate al trattamento dei pazienti affetti da Covid. Il referente della NAO Luca Barutta descrive la situazione che si sta vivendo nelle strutture ospedaliere provinciali dove la pressione maggiore oggi è concentrata su San Martino, mentre a Santa Maria del Pato pare andare un po' meglio. Chiudiamo questa pagina e continuiamo a parlare di Covid e andiamo alla notizia che ha colpito ieri la Chiesa Bellunese, la triste notizia. In questo caso siamo a pagina 6, non a pagina 6, ma vediamo, la recuperiamo subito. Per la morte di Don Untenberges siamo a pagina 11 e non a pagina 11, adesso andiamo a recuperare subito l'articolo. Ecco qui siamo a pagina 9. La comunità ecclesiale bellunese è in lutto, si è spento ieri all'ospedale San Martino dove era ricoverato da alcuni giorni Don Giovanni Untenberges, per decenni insegnante a seminario cittadino e formatore di molti sacerdoti bellunesi. Gli sono stati fatali gli esiti del Covid-19, da cui era stato colpito, ha sottolineato la diocesi di Belluno-Feltre dando l'annuncio della scomparsa del sacerdote di origine cadorina. Don Untenberg era nato infatti a Te di Cadore il 9 gennaio 1943 da Luigi e Maria Ritz. Ordinato presbitero il 28 giugno del 66, aveva impegnato i suprimi anni di sacerdozio a Roma ottenendo la licenza in Universa Teologica alla Pontificia Università Lateranense e poi la licenza in Scienze Bibliche al Pontificio Istituto Biblico di Roma. Tornato in diocesi negli anni 70-71, fu vicario cooperatore nella parrocchia cittadina di Roretto, un incarico che aveva affiancato ai primi insegnamenti di Sacra Scrittura e di Greco a seminario gregoriano. Dal 97 al 2014 fu direttore spirituale nello stesso seminario, ricorda la diocesi, ripercorrendone l'operato, divenendo di fatto il formatore di un'intera generazione di preti. Don Huntenberger è stato inoltre docente di Esegesia all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Belluno e alla Scuola Superiore e alla Scuola di Formazione Teologica di Belluno. Canonico della Catedrale di Belluno dal 1990, nel 2011 divenne canonico teologo e infine penitenziere nel 2020. Anche senza mai assumere il ministro di parroco, ricorda la diocesi, fu guida spiritale di mortissime persone che a lui ricorrevano come confessore, consigliere o maestro di vita spirituale. Qualche giorno fa aveva scritto così, carissimi, buonasera, la mia situazione continua ad essere impegnativa e non mostra ancora soluzione, ma confidiamo sempre a Dio, piace tanto la fiducia in lui, grazie infinite della preghiera, un abbraccio a tutti. E purtroppo ieri la triste notizia della sua scomparsa. Don Huntenberger aveva 78 anni. E poi ancora, parlando sempre di chiesa bellunese, la chiesa bellunese che cerca di conciliare il timore di una terza ondata con la necessità di favorire la partecipazione dal vivo. Basta messi in streaming sul web Marangoni, detta le regole per Pasqua. Stiamo parlando del Vescovo Renato Marangoni, l'articola di Stefano De Barba. Meno funzioni trasmesse in streaming e più celebrazioni dal vivo, magari in orari diversi da quelli tradizionali. Partecipazione in presenza, la messa almeno a Pasqua per i giovanissimi che devono affrontare la prima comunione o la cresima. Assoluzione collettiva al posto della confessione a tu per tu con i sacerdote che sarà rinviata a tempi migliori dal punto di vista della pandemia. Si legge nell'articolo di Stefano De Barba. Sono queste alcune delle istruzioni che Vescovo Renato Marangoni ha indirizzato nei giorni scorsi alla comunità dei fedeli in vista della Pasqua e nel timore di una terza ondata di coronavirus. Un messaggio in cui si riprende quello di Papa Bergoglio. Il Signore ci ha dato un vaccino efficace contro questo brutto virus è la speranza, ma in cui si richiama anche ad essere precisi e determinati nell'applicazione delle norme di prevenzione e igienizzazione. Chiudiamo questa parentesi e andiamo alla prima pagina di Belluno poi passiamo al gazzettino. Servizi pubblici, il 2021 è l'anno delle gare ma gli affidamenti sono ancora in alto mare. Tra contenziosi e rinvii gli obiettivi potrebbero non essere centrati. Iter complessi e valutazioni tecnico-economiche allungano i tempi. Si legge in questo articolo che è di Rene Aliprandi. Il 2021 potrebbe essere l'anno decisivo per l'affidamento di alcuni servizi pubblici fondamentali, l'aggiudicazione delle reti del gas metano, della raccolta dei rifiuti e del trasporto pubblico infatti in dirittura d'arrivo anche se con qualche incognita che sposterebbe in avanti il traguardo. Per quanto riguarda la gara del gas, la procedura di aggiudicazione delle reti è quella su cui gravano le maggiori incognite. Il 5 marzo è stata pubblicata l'ordinanza del Consiglio di Stato che è dato della decisione della parte appellante di rinunciare alla richiesta di sospensiva e fissa l'udienza per la decisione nel merito a 7 ottobre. La sospensiva, spiega l'avvocato Alberto Gaz, mirava ad evitare che in attesa del pronunciamento venisse firmata l'aggiudicazione delle reti al vincitore della gara, cioè Italgas. Il comune di Belluno, che è stazione appaltante, si è però impegnato a non firmare il contratto fino alla conclusione del ricorso al Consiglio di Stato. E quindi questa urgenza è venuta a meno e la sospensiva non è più necessaria ed è difficile prevedere i tempi del giudizio di merito. Per quanto riguarda i rifiuti, l'obiettivo dichiarato dal Consiglio di Bacino Dolomiti è quello di affidare il servizio entro il 2021, ma i tempi iniziano già ad essere stretti. La legge dice che si può ricorrere alla gara oppure ad altre formule, come l'affidamento in house a una società pubblica di proprietà degli stessi comuni e questa è la seduzione che si sta esplorando. E la gara che può considerarsi più blindata è quella del servizio di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, si legge nell'articolo. La gara è già stata espletata nell'autunno scorso e solo una società vi ha partecipato, cioè autoguidovie SPA, già socia di Dolomiti Bus, con una quota pari al 29,50%. L'articolo continua ancora. Per chi volesse approfondire, siamo nella prima pagina di Belluno del Corriere delle Alpi, pagina 21. Passiamo al gazzettino e andiamo subito all'edizione del nord-est, all'edizione dedicata alla provincia di Belluno. Focolaio in seminario muore un prete, questo è il titolo di apertura, Don Hundenberger era stato ricoverato dieci giorni fa, ex docente dell'olino e guida di molti sacerdoti bellunesi. In ospedale anche un secondo religioso, in isolamento tutti gli ospiti della struttura, fra di loro tre insegnanti del liceo. Per quanto riguarda le cifre, i contagi, Belluno torna alla peggiore del Veneto, torna ad essere la prima del Veneto per contagi, ponderati, la provincia di Belluno, che viaggia ad oggi a un soffio da 250 contagio di 100.000 abitanti, un parametro che potrebbe far scattare la zona rossa anche sui negozi. Oggi si esprimerà il governo, c'è l'articolo di Davide Piol, vaccino bloccato a Belluno, dosi per prof e agenti, oltre un migliaio di somministrazioni, ma ora tutti i flaconi sono stati esauriti, e andremo ora a leggere brevemente l'articolo. Per quanto riguarda l'economia, in provincia chiuse due aziende ogni tre giorni, sono 61 le aziende che hanno chiuso i battenti negli ultimi tre mesi in provincia di Belluno. Andremo a leggere l'articolo di Andrea Zambenedetti che espone anche la posizione della Camera di Commercio. A Valle di Cadore, chiesa sul dirupo, poche possibilità, verrà fatta una campagna di sontaggi per capire quali gli interventi da fare per salvare la chiesa di San Martino, vescovo, e il sindaco Ofer non nasconde le difficoltà. E poi ancora, in prima pagina c'è il lago di Alleghe, con il megaprogetto della regione da 85 milioni, paese senza auto, tunnel sotto il lago, la regione prevede un'opera di 85 milioni di euro per realizzare una galleria sotto il lago di Alleghe e alleggerire la strettoia che crea in paese nel periodo di grande affluenza, grandi code. Andremo poi a leggere qualcosa. E anche per quanto riguarda l'economia, oltre all'idea standard e agli scioperi, c'è anche un articolo che riguarda la Sicilia, operai stanno presidiando il municipio di Mel da una settimana. Andiamo all'interno. Migliaia di vaccinati con il lotto sospeso. In provincia non è possibile ritirare il vaccino finito nel Mirino. È terminato a Belluno. Il vaccino, infatti, questo lotto è stato terminato, è stato già utilizzato. Belluno, intanto, è un passo dalla zona rossa. Oggi deve decidere il governo. Per quanto riguarda appunto il lotto AstraZeneca che è stato ritirato, l'impedimento che ieri sera il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Sandro Cinquetti, ha spiegato in questo modo. Non possiamo ritirarlo perché non è rimasta nemmeno una goccia di quel vaccino. È stato somministrato operatori scolastici e a forza dell'ordine del territorio. Si parla di migliaia di persone che però al momento non hanno manifestato effetti collaterali gravi. E per quanto riguarda i numeri, ieri la provincia ha alzato di più l'asticella 226 nuovi positivi ogni 100.000 abitanti. Perciò, se la proposta di istituire zone rosse sopra quota 250 dovesse essere approvata, ecco che per Belluno la situazione si metterebbe ovviamente molto male. L'articolo in questo caso è di Davide Piol. A pagina 3 c'è ancora l'articolo che parla di Don Giovanni Untenberger. Il covid uccide Don Giovanni, seminario in quarantena. Sono stati isolati gli otto sacerdoti che abitano nella stessa struttura del prete. Il decesso è avvenuto ieri in ospedale e ricoverato un altro sacerdote positivo. Dopo un ricovero San Martino durato una decina di giorni, si è spento appunto ieri, come leggevamo prima, Don Giovanni Untenberger, sacerdote conosciutissimo in tutta la diocesi di Belluno. Don Giovanni aveva compiuto da poco più di un mese 78 anni. Per quanto riguarda i contagi, Untenberger viveva in seminario a Belluno e come detto da martedì scorso gli otto sacerdoti che risiedono nella struttura di via San Pietro stanno osservando un periodo di quarantena perché contati di un caso positivo. Fra di loro anche tre professori che insegnano nel liceo classico Lollino chiusi nelle loro stanze in questi giorni hanno continuato a fare scuola e impartire le lezioni online. Anche per questi ultimi, tuttavia oggi sarà comunque l'ultimo giorno di scuola per i ragazzi dell'Ollino perché da sabato scatta nuovamente la didattica a distanza al 100%. Andiamo avanti, leggiamo ancora qualche articolo a pagina 5 dell'edizione di Belluno. Ogni tre giorni due chiusure, il turismo per ora tiene, il virus e il suo impatto sull'economia. Tra dicembre e febbraio sono state perse 61 sedi, la manifattura meccanica paga il prezzo più alto, a sedico in tre mesi sono 11, le serrande abbassate a pagare Dazio, anche Belluno e Borgo Valbelluna. Quindi due serrande abbassate ogni tre giorni. Tra dicembre 2020 e febbraio 2021 sono 61 le sedi di impresa che hanno chiuso i battenti in provincia di Belluno. Una situazione di certo non semplice. e infatti poi ci sono anche gli articoli che riguardano quello che è lo stato di cose in ACC e in Idea Standard, comunque casi non legati alla situazione Covid perché è una difficoltà che si manifestava già da prima. ACC, la forza disperata di 300 lavoratori da una settimana occupano a turno il municipio per chiedere risposte, ma nessuno si è fatto avanti, di retromarcia delle banche. Siamo qui con il sacchiappello, ma continuiamo a lavorare anche in straordinario. Andiamo avanti, ma siamo stanchi, dicono appunto i dipendenti di ACC. E per quanto riguarda l'idea, il sciopero e picchetto contro la possibile chiusura, picchetto all'esterno dell'idea standard di Tricchiana, vogliamo sapere cosa ne sarà del nostro futuro, gridano a gran voce i 475 lavoratori. Ieri c'è stata la terza giornata di sciopero all'ex ceramica Dolomiti di Tricchiana. Ricordiamo che da alcune settimane, ossia da quando si è diffusa una voce insistente della volontà dell'azienda di delocalizzare la produzione in paesi in via di sviluppo, i sindacati lavoratori hanno alzato gli scudi appunto come anticipavamo prima. Per quanto riguarda la questione del lago di Alleghe, andiamo a pagina 11 a leggere l'articolo, auto addio un tunnel sotto al lago. La regione inserisce il progetto di una galleria nel piano di resilienza, risolverebbe l'imbuto nel centro del paese, prevista anche una condotta parallela in cui far defluire l'acqua del bacino in eccesso in caso di possibili esondazioni. Parliamo appunto del lago di Alleghe e del suo abitato. Una galleria sotto la sponda destra del lago di Alleghe con una condotta parallela lungo la quale far defluire le acque del bacino quando si presenta un rischio esondazione. Non è un sogno nell'utopica soluzione di un'annosa criticità dell'Alto Gordino come l'attraversamento di Alleghe durante i periodi di grande affluenza turistica. È invece un progetto ben definito e contenuto in due schede del piano per la ripresa e la resilienza elaborato dalla regione del Veneto. Un progetto da 85 mila euro che potrebbe eliminare in un colpo solo i due problemi della var cordevole, traffico e conseguenza delle alluvioni. La soluzione è quindi un tunnel sotto al lago per evitare il collo di bottiglia del transito all'interno di Alleghe ed è questa che resta l'alternativa più valida. Era già stata presa in considerazione ma tutti gli studi si erano renati davanti a un ostacolo insormontabile, quello dei costi assolutamente insostenibili. Non è vietato sognare, premette il sindaco di Alleghe Danilo De Toni. Oggi questo progetto è certamente molto più fattibile rispetto al passato perché c'è una volontà politica di risolvere non tanto l'attraversamento viario di Alleghe e quanto l'ha messa in sicurezza di una parte del suo abitato che si trova vicino alle sue sponde ed è soggetto alle esondazioni del lago, per l'appunto, come dicevamo prima. Spostiamoci, e questo è l'ultimo articolo che leggiamo oggi, parliamo della chiesa di San Martino a Valle di Cadore. Nella foto, per chi ci segue in video, si mostra, foto impressionante, si fa vedere, si mostra qual è il dissesto su cui la pioggia continua a battere, su cui il maltempo continua a battere, la chiesa è praticamente a picco sul dirupo, sondaggi attorno alla chiesa, si tenta di strapparla al dirupo, sopra luogo degli esperti per valutare le azioni possibili, ma il futuro è incerto. Verrà fatta una campagna di sondaggi per capire quali sono gli interventi da fare per salvare San Martino Vescovo, la parrocchiale di Valle di Cadore, chiusa dal 12 febbraio. Ieri in videoconferenza si sono confrontati tutti i soggetti interessati al problema, dal comune alla parrocchia, dalla curia alla soprintendenza, dalla regione alla provincia. Il sindaco Marianna Offer così sintetizza, lo dico in modo responsabile, dalla campagna di sondaggi possiamo aspettarci qualsiasi risultato. Quindi non si sarà ad attendere senza fare nulla, fino a che la chiesa finisca nel dirupo. Si comincerà con una perizia statica per capire se è possibile riprendere le funzioni religiose. In concomitanza saranno fatti monitoraggi sul terreno sotto la chiesa e sul versante della frana, che sembra si stia allargando verso le abitazioni vicine. Al capezzale della chiesa di San Martino, la regione con l'assessore Giampaolo Bottacin, come regione faremo la nostra parte per ripristinare il sistema di monitoraggio che ha avuto recentemente dei danni. Sarà anche avviata una perizia statica dell'edificio per verificare le condizioni e inoltre verranno fatti degli ulteriori sondaggi sul corpo frana per valutare l'evolversi della situazione. La problematica è nota da decenni, tant'è che la chiesa di Valle è stata oggetto di un controllo strumentale già dal 1987 e successivamente sono state realizzate alcune opere strutturali per il consolidamento dell'area sulla quale insiste staticamente l'edificio. L'articolo è di Giuditta Bozzonello. E proprio con questo articolo chiudiamo l'appuntamento di oggi. Vi aspettiamo puntuali domattina alle 8.30 su Radio Piave e poi anche in video sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo. Intanto un sereno venerdì a tutti un buon fine settimana a prestissimo e grazie dell'ascolto. Grazie